Solennità dell'annunciazione ad un mese esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina, 25 marzo. Una data non certo casuale, questa scelta da Francesco per compiere il solenne atto di oggi, consacrare la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato di Maria. Il tuo pianto di madre smuova i nostri cuori induriti, il Papa supplicherà la Vergine, perché sul campo le armi non tacciano ancora e anzi fan temere il ricorso ad altre ben più letali. Appuntamento oggi alle 17 a San Pietro. La recita dell'atto di consacrazione concluderà la celebrazione della penitenza e altrettanto faranno vescovi, sacerdoti e fedeli in città e paesi del mondo intero su pressante invito del Papa. Pace è l'implorazione che si alzerà al cielo in almeno 35 lingue, quelle in cui dal Vaticano è stato tradotto e distribuito il testo. A Fatima, in Portogallo, è arrivato già ieri l'inviato del Papa per compiere in sua vece lo stesso solenne atto. Lo aveva chiesto la Vergine, apparsa qui ai tre pastorelli, consacrare al suo cuore la Russia come già fecero i predecessori di Francesco. Nel frattempo però, riflette amaramente Bergoglio, abbiamo dimenticato le tragedie del secolo scorso, i milioni di morti delle guerre mondiali. È anche un po' triste perché sono stato in Ucraina, ho visto cosa succede lì, quindi anche questa immagine del popolo martiriato in Ucraina.